Perché si esitete? Non lo sentite attorno a lui. Cosa? Piano, a passi lenti. Il silenzio arriva. Questa palestra pare davvero senza fine. Addio, sì, addio, bello e dolce mio amico, che voi mi siate cavaliere sempre. Incessante. Dove stavate correndo? E se la mia reputazione si perdesse? Se la mia reputazione si perdesse? Sì. Mio, mio. Cosa sono diventato? Mia è la mano che è tanto mio, il corpo che mai avrebbe dovuto. Ti prego dimmi che li senti. Bussano come volessero buttare giù la porta. Io non sono sporco di sale, la polesta risponde. Stavo legge a nessuno. Non è anche la proposta per fare. Dicono che deve esserci. Libero! Dove è quello che deve accadere e non accade? Ti prenderò! Ti prenderò! E gli staccherò la testa dal corpo perché io sono... Cavaliere! Per pietà! Fermatemi! Per pietà! 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 Per pietà!